In Abruzzo non esiste alcun reparto di terapia intensiva riservato ai più piccoli. In Italia le terapie intensive pediatriche sono 23 per un totale di circa 200 posti letto, ovvero tre letti ogni milione di abitanti, al di sotto della media europea che pare a otto. L'Abruzzo è tra le sei regioni italiane dove questo reparto è assente, quindi se mai un bimbo dovesse avere necessità di essere ricoverato in reanimazione, questo sarebbe curato nel reparto per gli adulti. Le terapie intensive pediatriche più vicine sono quelle di Roma e Ancona. Essere assistiti in unità di terapia intensiva dedicate, fanno sapere gli esperti della società italiana di pediatria, significa migliorare la prognosi rispetto ai bambini che vengono ricoverati in terapie intensive per adulti. Insomma i bambini sono curati meglio nei reparti loro dedicati, ma non solo. Secondo gli addetti ai lavori la mortalità dei pazienti aumenta nelle unità operative a basso volume. In Abruzzo per i più piccoli esiste solo il reparto di terapia subintensiva. Si trova a Pescara ed è stato realizzato dalla Giunta d'Alfonso su impulso dell'associazione Progetto Noemi, la onlus fondata dai genitori di una bambina affetta da atrofia muscolare spinale. L'incontro di ieri sulle malattie rare promosso dalla ASL è stata occasione anche per affrontare questa tematica, quella di una sanità a misura del paziente. L'Abruzzo ha coraggio, riesce davvero a dare seguito alle richieste che noi facciamo attraverso l'associazione Progetto Noemi, ma ora più che mai c'è bisogno di un reparto di terapia intensiva pediatrica che si muoge all'unisono con la subintensiva pediatrica che ad oggi esiste ed è l'unica presente in Abruzzo proprio nell'ASL di Pescara. Stiamo allestendo gli spazi e formando il personale, questa la risposta dell'assessore regionale alla sanità. Al momento però non c'è alcuna data in cui il reparto dovesse effettivamente essere inaugurato. Bisogna investire anche nelle cure domiciliari, dice Sciarretta, affinché le famiglie dei pazienti non vengano lasciate sole. Sicuramente bisogna comunque entrare nell'ottica che la malattia rara incide nel nucleo familiare in un modo devastante, quindi il primo luogo bisogna individuare dei riferimenti regionali, quindi delle strutture ospedaliere in grado di dare assistenza a 360 gradi, quindi diagnosi, cura, ma soprattutto anche lavorare sull'assenza domiciliare, quindi cercare di far sì che l'ospedale vada a casa del paziente, del bambino.